Questo concerto che il quartetto della War II Chamber Orchestra trattiene ospite dell'Ambasciatore Phillips. È un meraviglioso coronamento del progetto che ci ha visti ospiti invece a Washington dell'Ambasciatore italiano per l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Mi ricordo che la prima volta che il Maestro Giurano mi aveva contattato ero emozionatissimo perché ero curioso di vedere un'orchestra dove ci fossero più nazionalità da tutto il mondo. È molto emozionato lavorare insieme con gli italiani e gli americani. Questo progetto qui in Roma è stato eccezionale. Lavorare ancora con alcuni dei stessi musicisti, ma in un piccolo settore, solo con il quartetto di stringa, e poi avere l'onore di performare qui per l'Ambasciatore. Benvenuti a tutti, a Villa Taberna. I am John Phillips, the now eight-month-old ambassador to Italy. And on behalf of my wife, Linda Douglas, here, we welcome you on a beautiful evening to Villa Taberna. This is a historic house. It's a large place, as you can see, and it's far too big for just two people and a cat to live. So, we do enjoy, and it's our obligation and desire, to open up Villa Taberna to our friends from Italy, our friends from the embassy, to experience evenings like this, a cultural, a very special cultural event. Ciao to all the Facebook friends of the U.S. Embassy. Ciao to all the Facebook friends of the U.S. Embassy.